Hola Franci sono molto motivato si motivatissimo guarda albeggia albeggia sulla presolana ferrante ferrantino allora oggi saliamo bruno spiega un attimo niente saliamo il ballone pieghiamo leggermente a destra per poi entrare a sinistra sopra proprio sopra al coperchio ma dalla parte destra tagliamo dentro a sinistra e andiamo in vetta poi nel scendere invece che riscendere dal canale nascosto tagliamo una doppia lì al al coperchio dove si vede il buco e niente scendiamo ritorniamo il ballone ecco ricordo che noi qua siamo questa la bagozza il mango e questa invece la cima bruno cimo baione e niente il nostro amico bruno ma tal vai 200 all'una eh bruno lo fa eh c'è niente da fare siamo noi quelli un po' più anzi sono io ma dal fabuario 1 gardone 0 ecco qua poco più avanti spieghiamo dentro a sinistra per il canale nascosto questo invece è la discesa del canale del coperchio lì c'è una una doppia di 7 8 metri basta poi eventualmente se se è presto se abbiamo voglia ritorniamo su andiamo a fare il canale della fessura vediamo poi scendiamo dalla normale hai capito francesco ma si pensa di fare tra i quattro canali oggi mi sa che stasera ancora acqua qua vediamo franci quasi alla selletta poi un ultimo strappo e ci siamo grande franci dai che ha fatto una bella passeggiata anche ah che bella che è con la guglia lì dietro di te è un po' più nonostante abbia piovuto stanotte la neve è bella portante comunque una bella cornice io adesso nonostante abbia un po' a cima quella lì sopra lì la bacchetta e ce n'è ancora di neve però bacchetta ladrinai neve ce n'è sì sì tantissimo ancora ecco roby con dietro ladrinaio bacchetta amico roby eccoci ciao ciao roby spettacolo bello bellissimo francesco franceskin grande fatta lì cima baione urrà una vista stupenda sulla bacchetta bellissima la bacchetta e arriva la cima ladrinai qua dietro c'è la normale non scendere un attimino perdere quota un 20 30 metri la traccia ok si piega qua e dopo si fa giudal praticamente a destra di dove siamo saliti capito a discesa da canale da coperchio è vero non è il massimo marcia anche da post bellissimo stupendo facciamo una doppia qua io sono dentro tu sei qui allora adesso ti do questo non ti serve più e con questo ti do ti faccio su il massaccio il massaccio ciao gente ciao 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 Grazie. Grazie. Grande, Franci. Buona, dai, quasi chiuso.